La situazione è molto complicata in Ctp, ci stiamo lavorando in maniera costante, ogni giorno si fa un lavoro complicato, difficile e sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo. I lavoratori, i sindacati, le lavoratrici dovrebbero capire che con un'altra amministrazione il Ctp sarebbe già fallito, altri enti per ora non hanno sostenuto questa battaglia e la supereremo come città metropolitana. È difficile, quindi ho la comprensione per chi ha avuto delle sofferenze particolari in questo periodo, che ha temuto per il posto di lavoro, la sua precarietà, c'è stato qualche ritardo nei pagamenti, ma io credo che la situazione è sotto controllo. Sicuramente non aiuta, e questo lo devo dire per sincerità, non uscire con i pullman, non dico oggi che lo sciopero, in generale non aiuta perché se non incameri non puoi andare avanti. E così come non aiuta il fatto di considerare il responsabile chi li sta salvando. Perché poi nell'istituzione e nella politica c'è sempre un limite che non è valicabile, cioè nel senso che se noi dobbiamo assumerci delle responsabilità significative che sono un po' extra ordinem, cioè nel senso che se io dovessi stare al quadro complessivo Ctp non ha grosse speranze di farcela. Siccome invece di fronte ci hanno persone che credono in questa sfida così complicata, forse avremmo bisogno anche di una consapevolezza maggiore di questo. Alcuni in buona fede non la tengono perché magari sono disperati, come diceva lei prima, altri stanno invece sbagliando obiettivo e nello sbagliare obiettivo rischi di colpire proprio quelli che li sta salvando. Io vorrei che questo, almeno chi ha la testa sul collo, lo capisse e chi ha la possibilità di discernere il momento di disperazione dalla lucidità che bisogna avere. Se invece ci si vuole divertire a cercare di colpire chi li sta salvando, complimenti perché se va in porto questa operazione il Ctp fallisce sicuramente. Tempi? Tempi rapidi perché non possiamo se no andare oltre. A quel punto crolla l'azienda e non ce la facciamo, ma la situazione è complicata.